Ciao, oggi parliamo di idrogeno. Come vedete da questa porzione della tavola periodica degli elementi, l'idrogeno è al primo posto perché ha un numero atomico 1. È l'elemento più abbondante nell'universo. Qui vediamo l'atomo di idrogeno con un solo elettrone. Pur essendo abbondante, però, non lo troviamo mai da solo, ovvero è sempre mescolato con altre sostanze. Lo troviamo in altre molecole perché appunto è molto socievole. Per esempio lo troviamo tranquillamente nell'acqua, e questa appunto è la molecola H2O. Oppure lo troviamo facilmente nel metano, CH4. Il problema è che purtroppo per ottenere l'idrogeno, separandolo dagli altri elementi chimici, occorre molta energia, alle volte troppa, e quindi non è conveniente questa divisione. Però l'idrogeno comunque viene prodotto perché serve per fare tante cose, per esempio l'ammoniaca. Di conseguenza capiamo che l'idrogeno non è presente, già disponibile, quindi non è una fonte vera e propria di energia. Si tratta invece di un vettore energetico, ovvero da un qualcosa noi lo possiamo ottenere. Inoltre l'idrogeno può servire per produrre trasformazioni di energia, cioè convertire una forma di energia ad un'altra, attraverso appunto il suo utilizzo. Vediamo i colori dell'idrogeno. Non nel senso che l'idrogeno abbia dei colori, che sia colorato, assolutamente no. L'idrogeno è un gas in colore, ma noi possiamo classificarlo in base a come viene prodotto, ovvero verde quando si ottiene dall'acqua, e quindi come sottoprodotto di scarto all'ossigeno, e inoltre viene prodotto con fonti rinnovabili di energia. Quindi l'elettricità proviene per esempio dall'eolico, dal solare, dall'idroelettrico. In questo caso è sicuramente green, ecologico, e va molto bene, quindi è verde, anche se purtroppo tante volte non viene utilizzato questo metodo, cioè non da fonti rinnovabili. Quello più utilizzato è quello grigio, cioè viene ottenuto da fonti fossili, ad esempio appunto il metano CH4, come abbiamo visto prima. Abbiamo poi la versione blu, che si tratta sempre di idrogeno ottenuto dal metano, quindi da fonti fossili, però c'è la questione della sequestrazione della CO2, dall'ide carbonica, che sarebbe il sottoprodotto negativo che abbiamo ottenendolo dal metano. Ecco, quindi l'ideale sarebbe ottenerlo dal verde, però purtroppo non ci sono ancora abbastanza impianti, e spesso le fonti rinnovabili non sono ancora così diffuse da poterle appunto impiegare in questo senso. Come possiamo produrre idrogeno? Innanzitutto col metodo dell'elettrolisi. In acqua, dall'acqua, noi otteniamo l'idrogeno, separando le due parti della molecola, immergendo nell'acqua due poli di un generatore, come ad esempio una comune pila. La corrente quindi passa attraverso l'acqua e divide le molecole di H, idrogeno, e O, ossigeno, e così otteniamo i nostri due sottoprodotti. Questo è il metodo che abbiamo detto, ideale anche per quanto riguarda l'ecologia, nel senso che non inquiniamo, ma che porta via tanta energia elettrica. Spesso viene impiegato questo metodo da fonti energetiche come l'idroelettrico, quando per esempio abbiamo abbondanza di produzione di energia in alcuni momenti della giornata o dell'anno, e allora in quel caso noi possiamo sfruttare l'eccesso di energia elettrica per fare l'elettrolisi e quindi ottenere l'idrogeno che vogliamo, e poi stoccarlo per poterlo poi utilizzare. Questo avviene poi, vedremo ad esempio, in Alto Adige in Italia. Altro metodo per produrre idrogeno, però da metano, è lo steam reforming, ovvero noi abbiamo il nostro metano, si fa reagire con acqua e sotto forma di vapore, steam, ad alta temperatura. In questo modo otteniamo appunto l'idrogeno che cercavamo, ma anche altri prodotti di reazione, che non va tanto bene a disperdere nell'ambiente. Qui vediamo CO, CO2, che hanno entrambi all'interno la C di carbonio, e quindi inquinanti. Altro metodo è la gassificazione da biomasse, dove noi in pratica bruciando ad altissime temperature la biomassa, il legno, possiamo ottenere l'idrogeno, ma anche purtroppo molta CO2, perché come sempre quando noi bruciamo qualcosa, dove c'è la combustione, c'è la produzione di anidride carbonica, e in più altri gas di scarto. Quindi anche questo metodo non è ideale, proprio per questo motivo, della produzione di CO2. Come sfruttare l'idrogeno? L'idrogeno viene impiegato tramite la cella combustibile, chiamata in inglese fuel cells. Cosa succede dentro a questa cella combustibile? Noi immettiamo idrogeno, immettiamo ossigeno, aria, e otteniamo acqua, elettricità e calore. L'elettricità è quella che ci fa funzionare, per esempio, il motore dell'automobile, ed è quello che infatti viene utilizzato principalmente per i trasporti. Abbiamo poi come prodotti di scarto acqua e calore, che quindi non sono assolutamente inquinanti. È un ottimo metodo di impiego. Vi ho detto che l'idrogeno viene impiegato principalmente per i trasporti, per esempio per le automobili, per gli autobus, poi abbiamo i tram, sicuramente, il treno, e questo lo otteniamo però non in Italia, questo in Germania, per esempio. Purtroppo però abbiamo dei problemi nell'utilizzo dell'idrogeno. Innanzitutto i costi elevati per la produzione, poi la sicurezza, perché purtroppo è molto infiammabile. Quindi anche il trasporto, lo stoccaggio, devono essere fatti con estrema attenzione. Inoltre, per il momento, almeno in generale nel pianeta, tranne in rari casi, non c'è una vera e propria rete di distribuzione ben strutturata, di conseguenza non è facile disporne. Qui abbiamo l'unico, praticamente ad oggi, esempio di sfruttamento di idrogeno in Italia, siamo a Bolzano, in Alto Adige, e qui abbiamo proprio, vedete, la produzione di idrogeno attraverso l'elettrolisi quando c'è abbondanza di energia idroelettrica. Lì, essendo in montagna, è facile avere questa opportunità. In questo caso, quindi, abbiamo questa stazione dove vengono rifornite alcuni autobus della rete urbana e automobili, le poche che ancora, per il momento, sono state vendute. Inoltre, comunque, ci sono tanti progetti per cercare di sfruttare, appunto, l'idrogeno e qui abbiamo un esempio in Spagna, un'azienda spagnola ha progettato questo impianto dove da energia eolica e solare offshore, quindi in mare, si può produrre idrogeno che poi potrebbe essere portato tramite le navi. Questa qui, vedete, sembra una nave metaniera, ma in realtà può contenere l'idrogeno e portarlo a riva e quindi utilizzarlo per i vari impieghi. Oppure, in futuro, si pensa anche al trasporto marittimo che potrebbe cominciare a diventare, invece che con i combustibili fossili come viaggiano ora le navi, si potrebbe utilizzare l'idrogeno e di conseguenza questo potrebbe essere un ottimo punto dove appunto fare rifornimento e questo è appunto un esempio di quello che potrà avvenire nel futuro. L'idrogeno per ora è poco sfruttato, però potrebbe davvero essere una fonte, anche se vi è detto che non è una fonte, ma è un vettore che cambierà il futuro.